Per quanto riguarda la pagina passiera, si è ora da così che le dimenticate di una via passina, cosa vi è prestato? Dove si trova? Pocca all'interno, c'è troppo meglio, c'è? Ma non è che dopo? Tutto? Ah, la pia, quindi appocca, no? Ah, non, allora non si, allora non si vedi. Ah, non, non si vedi. Trav never giro mai. Per quanto riguarda? Qu'è lì? Qu'è lì? Kverniglia, sono digitalizzare personaggi, Grazie a tutti. Santuario Madonna delle Lacrime, Siracusa, 7 luglio 2020. Molo Sant'Antonio, Siracusa, Porto Grande. Sant'Antonio, Siracusa, Porto Grande. Navi a vela, merugue e spucci. Nel Porto Grande di Siracusa. Amerigo Vespucci, Navescuola della Marina Militare. Nel Porto Grande di Siracusa, Porto Grande. Nel Porto Grande di Siracusa. Nel Porto Grande di Siracusa, Porto Grande.